ciao ragazzi bentornati sul canale oggi andiamo a vedere una cosa nuova introduciamo sempre qualcosa di nuovo in questo canale vi voglio veramente rendere super armati nei confronti dei grafici ma a parte gli scherzi andiamo quindi subito a vedere un nuovo pattern anch'esso di inversione di trend perché poi fondamentalmente forse i pattern di inversione di trend sono quelli un po più un po più famosi quelli un po più ricercati perché sono quelli che ci permettono di entrare al termine di un trend per poi percorrere tutto il successivo poi ovviamente anche i pattern di continuazione sono importantissimi perché un momento che noi siamo entrati in un trend e quindi vediamo dei pattern che ci confermano che il nostro trade è buono ci permettono di tenerlo aperto il più lungo possibile quindi di prendere il massimo profitto ma intanto bando alle ciance torniamo sui nostri grafici siamo quindi su cardano prendo questo perché mi è capitato proprio sotto gli occhi l'ho visto e adesso ci voglio fare un video così intanto ne parliamo poi si potrà approfondire perché ci sono tanti poi sistemi per ottimizzare i pattern ma intanto andiamo a conoscere le basi di questo nuovo pattern un pattern che è stato ideato o meglio ideato insomma diciamo è stato studiato in maniera più approfondite sulla quale ha operato tanto Joe Ross che è un trader famosissimo alla stregua di questo pattern molto simile anche concettualmente anche un altro trader aveva individuato sempre questa conformazione della sperandeo lo vedremo casomai in un successivo video intanto oggi iniziamo con questo quindi iniziamo con l'un due tre di Joe Ross allora come è formato questo pattern intanto beh siamo su ADA Bitcoin ma fondamentalmente poi oggi non è che dobbiamo fare entrate uscite quindi ci serve solamente un grafico qui abbiamo i trade vecchi tanto ormai i target sono stati presi tutti quindi ok possiamo anche cancellare tutto pazienza ormai tanto si rifarà e andiamo a vedere quindi questo pattern di inversione l'un due tre in questo caso low cioè pattern di inversione dal basso verso l'alto come si forma beh proprio come dice il nome ci sono tre punti cardine il punto 1 il punto 2 e il punto 3 il punto 1 va individuato nel minimo ovviamente ragazzi piccola precisazione di dovere e i pattern di inversione e vanno cercati nel momento in cui c'è un trend in atto cioè bisogna che il prezzo scende bisogna che il prezzo si muove in trend se vedete un 2 e 3 di Ross in una fase laterale poco conta o in una piccola correzione poco conta ok per avere il massimo della performance da questo pattern bisogna che ci sia un vero movimento ribassista in questo caso il movimento ribassista lo abbiamo e allora possiamo andare a cercare il nostro pattern di inversione abbiamo detto quindi 1 2 3 il punto 1 come si individua beh il punto 1 molto semplicemente è il minimo del movimento quindi tendenzialmente ogni nuovo minimo di un trend ribassista può essere il punto 1 e questo diciamo che è il più facile da individuare punto 1 vabbè come ho scritto dunque punto 1 a questo punto ci aspettiamo una correzione come sempre quando si giunge comunque un punto molto basso si raggiunge a un minimo ci si aspetta la successiva correzione suo ritracciamento il ritracciamento andrà a formare il punto 2 fino a qui tutto semplice quali caratteristiche devono avere questi due punti ma semplicemente nulla di chi è semplicemente appunto il punto 2 sarà la correzione del punto 1 e per far sì che il punto 2 sia valido ci sono c'è qualche piccola regoletta che ora andiamo a vedere questa piccola regoletta include il fatto che il punto 2 sia una correzione reale cioè deve essere poi seguito da delle altre candele che quindi non vanno a rompere il massimo del punto 2 quindi noi abbiamo il punto 1 il ritracciamento il massimo del ritracciamento il massimo della correzione del punto 1 sarà appunto il punto 2 e nelle candele successive non dovrà essere rotto questo massimo perché se la candela successiva disegna un massimo ancora più alto sarà allora quello il punto 2 ok si sposta il punto 2 si deve essere sul massimo della correzione inoltre bisogna che le candele successive a parte ovviamente non rompere il massimo devono rompere il minimo quindi ad esempio in questo caso è perfetto perché perché noi qui andiamo a disegnare il nostro massimo la candela successiva cosa fa disegna un massimo che la punta dell'ombra superiore inferiore e disegna un minimo la lower shadow inferiore appunto minimo inferiore ok cioè a livello di prezzo è un livello di prezzo più basso ok quindi il prezzo scende e così viene a formarsi la correzione completa ok cioè si va a formare diciamo così l'archetto non viene più rotto il prezzo a rialzo ma il prezzo inizia un po' a scendere a questo punto andiamo quindi a cercare il punto 3 che dovrà essere un minimo superiore al punto 2 perché se il punto 3 a questo punto va a rompere il punto 1 il pattern invalidato e andremo a cercare e ricominceremo da capo a cercare il punto 1 quindi a questo punto il prezzo scende questo caso qui noi avremmo il nostro punto 3 io ovviamente ve lo faccio vedere su un grafico già formato è ovvio che poi mentre il grafico si forma il punto 1 si va a smuovere ogni volta che c'è un nuovo minimo ma dovete andare a cercare come dicevo prima il punto 1 solo nel momento in cui c'è già un trend ben formato perché è un'inversione di trend non è che ogni massimo ogni minimo il punto 1 può essere il punto 1 dopo che c'è già un trend di lungo corso bello formato ovviamente piccola chicca se incominciate a vedere che il prezzo inizia generale dei nuovi minimi ma ad esempio indicatori come il MACD, indicatori come l'RSI incominciano a dare divergenza allora lì campanellino d'allarme incominciate a cercare i punti 1 ritracciamento sarà il punto 2 e per confermare il pattern dovete aspettare il punto 3 come dicevamo il punto 3 deve essere un minimo superiore non deve andare a violare il punto 1 e come per il punto 2 bisogna che nelle candele successive ovviamente il minimo non venga rotto ma il massimo si come vedete io diciamo di regola do tre candele di tempo qualunque time frame non mi interessa tre candele di tempo entro queste tre candele non deve essere rotto il minimo del punto 3 e invece deve essere superato il massimo ok questo nella prima candela non avviene nella seconda con l'ombra si ok e poi con la terza anche va già bastava anche la seconda per me quindi l'importante è che non viene rotto il minimo ma che viene superato il massimo allora questo punto punto 3 confermato come si entra? molto semplicemente si entra alla rottura del punto 2 questo è diciamo l'entrata canonica si entra alla rottura del punto 2 stop loss sotto il punto 1 e poi si lascia correre il prezzo perché appunto pattern di inversione si possono comunque mettere dei target ragazzi si può fare ad esempio il 100% delle estensioni diciamo dal punto 1 al punto 2 ma poi per i target ci si potrà aggiustare ognuno poi ognuno ha la sua strategia ma più che altro si entra al punto 2 e stop loss sotto il punto 1 per quanto riguarda le crypto adesso stiamo vedendo un grafico daily attenzione con le crypto grafico daily perché molte volte le oscillazioni sono ampie quindi se non siete proprio preparati se non aspettate delle oscillazioni di prezzo così grosse queste oscillazioni di prezzo porterebbero il vostro capitale a salire e a scendere anche di molto quindi se non avete una strategia di money management che vi consente di sopportare queste oscillazioni così elevate vi consiglio di operare tanto l'1,2,3 lo potete andare a cercare anche nell'M1 ma ovviamente vi sconsiglio di andare nell'M1 ma lo potete cercare per dire in qualunque time frame quindi anche in M15 potete vedere un 1,2,3 quindi tranquilli evitate magari time frame molto ampi perché altrimenti queste oscillazioni di prezzo vi potrebbero far venire le palpitazioni ma tornando all'1,2,3 appunto si entra alla rottura del punto 2 e si lascia correre il prezzo al rialzo quindi ricapitolando ovviamente poi questo è l'1,2,3 low l'1,2,3 high è identico semplicemente il punto 1 sarà il massimo del trend rialzista il punto 2 sarà la correzione il punto 3 sarà il massimo successivo dopo il punto 1 ma inferiore ok? è lo stesso modo immaginatevelo ribaltato le regolette che abbiamo detto devono essere che il punto 2 e il punto 3 devono essere confermati ok? quindi dopo la formazione del punto 2 in questo caso dovremmo avere il prezzo che riprende e scendere e dopo la formazione del punto 3 il prezzo dovrà risalire questo io gli do 3 candele di tempo questa è una regola abbastanza corretta perché nel qual caso dopo il punto 3 qui il prezzo iniziasse a lateralizzare cioè ci impiegasse troppo tempo a rompere i massimi del punto 3 o qui a rompere i minimi del punto 2 allora in quel caso il pattern sarebbe invalidato ok? quindi se ci impiega troppo non mi piace lasciatelo, scartatelo a questo punto poi magari succederà quello che doveva succedere ma pazienza noi dobbiamo cercare di fare i migliori trade possibili non qualunque cosa al mondo e altra regoletta evitate se durante la formazione del pattern o anche nel breakout si formano dei gap e anche lì in quel caso scartate il pattern quindi ora qui chiusure e aperture si susseguono in maniera perfetta nel caso in cui ad esempio ci fosse stato un gap quindi la candela questa chiudeva qui facciamo un esempio e questa successiva anziché aprire a livello della chiusura precedente apriva già da tipo d'acqua su allora in quel caso niente 1,2,3 poi come vi dicevo prima si possono avere delle ottimizzazioni d'entrata ad esempio tramite le bande di Bollinger tramite le Gimme Bar si può ottimizzare il pattern adesso però intanto come infarinata generale abbiamo visto questo nuovo pattern di inversione di tendenza da prezzo alto a basso o da basso ad alto si chiama 1,2,3 di Ross Joe Ross è comunque trader famosissimo lo potete cercare anche tranquillamente su Google se volete sapere la sua storia e questo è un pattern di inversione molto molto efficace e poi vedete che come concetto più o meno un po' si assomigliano tutti perché ad esempio se noi qui avessimo avuto cioè in realtà questa sarebbe diciamo la testa e la spalla destra sarebbe comunque un doppio minimo cioè è vero che poi un po' si potrebbero assomigliare tutti ma il fatto che l'individuazione del punto 2 del punto 3 ha delle regolette ben definite ci possono aiutare a scartare un po' di falsi segnali ok? quindi se tutto non è come deve essere non si opera se tutto è com'è si opera poi può andar male perché la certezza che il trade vada sempre bene non ce l'abbiamo però intanto noi abbiamo fatto un buon trade ok? con questo è tutto io vi saluto e siamo ormai venerdì quindi vi auguro anche buon weekend e ci vediamo alla prossima buon trading ragazzi